In collegamento telefonico con Giuseppe Stabile, meteorologo di Meteo7.it, per un nuovo aggiornamento sul tempo. Giuseppe, prima di entrare più nel dettaglio per quanto riguarda questo nuovo weekend, vogliamo partire dalla situazione attuale del tempo. La nostra regione sta per essere interessata da una forte eruzione di aria fredda proveniente dall'Europa orientale. A partire dalla serata di oggi assisteremo ad un rinforzo del vento con temperature che inizieranno a diminuire fino a portarsi entro le prime ore di sabato bene al di sotto della media del periodo e sarà proprio la giornata di sabato la più fredda di questo fine settimana con venti molto forti e possibili nevicate fino a quote molto basse. Un weekend dunque che si annuncia all'insegna del freddo intenso. Cosa ci attende invece per le giornate di domani, sabato 23 e domenica 24 febbraio? Per domani sabato 23 febbraio avremo cielo poco nuvoloso in prossimità della costa, specie sul settore settentrionale, mentre addensamenti consistenti interesseranno la dorsale appenninica, specie il settore orientale dove si avranno deboli precipitazioni a prevalente carattere nevoso fino in pianura. Maggiormente interessate dai fenomeni dovrebbero risultare le aree ai confini con la Basilicata, in modo particolare il Vallo di Diano, a seguire l'Irpinia e il Sannio. Su questi settori potrebbero registrarsi accumuli fino a 5-6 cm, meno probabili i fenomeni tra casertano e napoletano. Qualche fiocco non è da escludere anche sulla città di Salerno, ma senza accumuli. Temperature in forte diminuzione con valori che entro la serata si porteranno sotto gli 0 gradi centigradi su tutte le località situate al di sopra dei 400-500 metri, venti da forti a molto forti da nord-est, mare molto mosso agitato fino a grosso allargo. Per domenica 24 avremo cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in ulteriore diminuzione nei valori minimi congelate diffuse a tutte le quote, in lieve aumento invece le massime. Venti forti da nord-est, specie nella prima parte della giornata. Mare molto mosso agitato con muoto ondoso in progressiva diminuzione. Cosa ci attende invece per l'inizio della prossima settimana? A partire da lunedì l'afflusso di aria fredda tenderà ad attenuarsi con temperature massime che lentamente si riporteranno entro i valori medi del periodo. Farà ancora piuttosto freddo invece durante la notte e al primo mattino. La disposizione delle correnti rimarrà da nord-est trasportando aria secca, per cui non sono previste precipitazioni almeno fino alla fine del mese. Ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it